chi siete voi che noi chiamiamo maestri immateriali nella realtà chi siete noi siamo quelli che hanno avuto le loro limitazioni che hanno trasceso da molti secoli da quelli che per voi sono secoli e che adesso vivono immersi nella loro vera natura nell'unico spirito ogni presente e onnipervadente e si preparano all'identificazione con l'assoluto essere